Battistini, è arrivata la decisione, la proposta di Alisa che intende istituire un reparto dedicato solo ai pazienti affetti dal coronavirus all'interno dell'ospedale San Bartolomeo. Come è commentata questa decisione? Diciamo che siamo fuori tempo massimo. Noi pubblicamente avevamo proposto un Covid Center al San Bartolomeo già il 13 marzo scorso, quindi in piena emergenza sanitaria, in piena fase 1. E l'avevamo formalizzata attraverso una lettera il 19 marzo, una lettera indirizzata all'assessore Viale, al presidente Totti e ai commissari straordinari di Alisa e di Asle 5. Quella lettera molto probabilmente ha preso la via del Cestino purtroppo, creando una disorganizzazione che noi giudichiamo grave nel sistema sanitario regionale e in questo caso in Asle 5. Siamo fuori tempo massimo, però benvenga comunque in questo momento che ci sia quantomeno un reparto dedicato al Covid perché purtroppo l'emergenza non è ancora passata. Infatti proprio da oggi è di nuovo circolazione libera tra le regioni. Secondo voi è una scelta un po' troppo affrettata oppure no? Siamo fuori dalla fase 1, siamo in fase 2, quindi i dati migliorano. Alcune regioni, come purtroppo la nostra, hanno ancora un numero di contagi troppo elevati. Questo perché? Perché, come dicevo poc'anzi, c'è una disorganizzazione nel sistema sanitario regionale. Bisognerebbe fare di più e meglio. Certo, si deve andare verso un'apertura. Si deve, diciamo per così dire, far riprendere l'economia, ma servono regole chiare e precise. Bisogna sensibilizzare le persone e informare le persone sul fatto che il Covid è ancora tra noi. Non bisogna abbassare la guardia, quindi mascherine, distanziamento e usare cautela. Perché le prossime settimane purtroppo saranno quelle decisive per vedere se c'è una ripresa del contagio oppure se andando verso la stagione calda il virus allenta la sua morsa sulla popolazione.